Signori e cavalier che vi adunati per odir cose dilettose e nove, state attenti e quieti ed ascoltate la bella istoria che il mio canto muove. Questo è l'esordio del poema di Boiardo l'Orlando innamorato composto a Ferrara nel 1476. Il poeta si rivolge al suo pubblico e sin dal primo verso, nell'endia di Signori e cavalier, Boiardo aggancia al suo presente storico, la corte rinascimentale di Ferrara, ad un passato mitico, un passato che appartiene ai cantari e alle chansons cavalleresche. Se da un lato è vero che il poeta proietta in un passato antico, feudale, e il suo presente storico, dall'altro è anche vero che del passato il poeta recupera gli ideali di cavalleria, di prudezza, di forza, di fedeltà al proprio Signore, ideali di una società tipicamente feudale, e li riattualizza nel clima rinascimentale della corte ferrarese. La corte di Ferrara è costruita sui rapporti che il duca Ercole I d'Este intrattiene con la piccola nobiltà feudale. E Boiardo appartiene a questa nobiltà feudale, perché egli nasce nel 1441 a Scandiano, che è un feudo nei pressi di Reggio Emilia. Ed è interessante anche la data di nascita di Boiardo, il 1441, perché è proprio l'anno durante il quale il Signore di Firenze, Cosimo I de' Medici, Cosimo il Vecchio, con la collaborazione di Leon Battista Alberti, attraverso il certame coronario tentano la promozione di una nuova lingua letteraria, il volgare letterario italiano. Il poema epico cavalleresco, così come viene ripreso da Boiardo e con il quale poi si misureranno anche Ariosto e Tasso, è proprio uno dei banchi di prova sul quale si costruisce questo nuovo volgare letterario. La serenità nei rapporti tra Boiardo e la cortestense si riflette sulle ottave del poema, che scorrono leggere, divertenti e che intrecciano le vicende dei protagonisti tra avventure meravigliose, fantastiche e battaglie epiche. Nei versi dell'Orlando innamorato vibra la fiducia di Boiardo nella rinascita di una nuova era cortese che si potrebbe realizzare, anzi che si realizza proprio lì, in quel momento, nel 1450, alla corte di Ferrara. Ma riprendiamo ora la lettura del nostro proemio che prosegue così. E vederete i gesti smisurati, l'alta fatica e le mirabili prove che fece il Franco Orlando per amore nel tempo del re Carlo Imperatore. Non vi par già, signor meraviglioso, o dir cantar de Orlando innamorato, che qualunque nel mondo è più orgoglioso è d'amor vinto, al tutto subiugato, né forte braccio, né ardire animoso, né scudo o maglia, né brando affilato, né altra possanza può mai far difesa, che al fin non sia d'amor battuta e presa. Il poeta più volte si rivolge direttamente al suo pubblico, l'abbiamo visto nel primo verso della prima ottava, Signori e cavalieri, e anche nel primo verso dell'ottava seguente, della seconda ottava, non vi par già, signor meraviglioso. L'oralità è una caratteristica del poema epico, lo era già dell'epica classica, ma questa oralità è stata trasformata da Boiardo in una oralità teatrale, cioè il poeta di fronte al suo pubblico agisce come quasi un prologo su una scena teatrale e anticipa quelli che saranno gli elementi dell'azione, quindi anticipa proprio la trama del poema. È spia di questa dimensione teatrale il verbo evedereti i gesti smisurati, cioè il poema è un poema che viene distribuito poi a stampa, quindi il pubblico cortigiano può averne una copia, lo legge direttamente dalle pagine di un libro, però il poeta dice vedereti, vedereti i gesti smisurati, proprio come se si trattasse di un pubblico di fronte ad una scena. Ferrara sarà proprio il luogo della rinascita del teatro classico, del volgarizzamento del teatro classico e della riproposta di un nuovo teatro rinascimentale. L'argomento del poema nasce dalla fusione del ciclo carolingio e del ciclo bretone, quindi della materia bellica e della materia amorosa. E Boiardo riesce a fonderli insieme in modo molto divertente, molto elegante, in quattro versi, creando con un climax ascendente l'attesa riferita alle vittorie sul campo di battaglia da parte di Orlando, e cioè i gesti smisurati, l'alta fatica, le mirabili prove che fece il Franco Orlando, e poi la prosdocetton finale. Tutto ciò l'ha fatto per amore. Nella seconda ottava viene presentata l'ultima grande battaglia di Orlando, la battaglia con amore, e questa immagine naturalmente si ricollega perfettamente a tutta la tradizione lirica precedente della poesia toscana, al filone che era già di Cavalcanti, che viene poi ripreso da Dante e che viene ripreso anche da Petrarca. Amore è un guerriero troppo forte, troppo potente, non ci sono armi né di offesa né di difesa che valgano qualche cosa. in una battaglia contro amore. E così anche Orlando è destinato a soccombere. Questa novella è nota a poca gente, perché Turpino è stesso la nascose, credendo forse a quel conte valente essere le sue scritture dispettose, poiché, contra d'amor pur, fu perdente colui che vinse tutte le altre cose. Dico di Orlando, il Cavaliero adatto. Non più parole ormai. Veniamo al fatto. Quest'ottava ribadisce la novità della materia e contiene quello che viene definito il patto letterario, e cioè quell'espediente che rende credibile la vicenda di Orlando, il recupero dell'antico manoscritto di Turpino. Turpino che era considerato dalla tradizione come lo storico che registrò le imprese di Carlo Magno e quindi anche dei suoi conti paladini. Boiardo era entrato sulla scena come un prologo e proprio come un prologo ad un certo punto fa un inchino e se ne esce di scena, lasciando al suo pubblico la visione diretta della commedia. Non più parole ormai. Veniamo al fatto. Come dicevo, i rapporti tra Boiardo e la corte estense sono rapporti sereni, sono rapporti distesi e questo è dovuto al fatto che il poeta non ha bisogno della monificenza degli estensi per sopravvivere. Egli è ospite lustre della corte di Ferrara ed è il duca Ercole stesso che gli commissiona la stesura dell'opera, una grande opera epica che dovrebbe essere nelle intenzioni anche encomiastica della casata estense. Quando Boiardo morì nel 1494 il suo poema rimase incompiuto, ma fu proprio il duca Ercole I ad interessarsi personalmente alla pubblicazione della sua opera e fu un grandissimo successo editoriale. Anche la data di morte di Boiardo è emblematica, il 1494, e cioè l'anno in cui Carlo VIII il sovrano francese scende in Italia e riapre quel periodo di guerra e di lotte che segna la fine definitiva della politica di equilibrio di Lorenzo Magnifico, quella politica che aveva creato il contesto storico ideale per il Rinascimento. L'equilibrio, la fiducia e l'ottimismo che avevano caratterizzato l'arte rinascimentale cominciano a mostrare le prime incrinature, i segni di debolezza e si insinuano invece sentimenti come la precarietà, l'incertezza del futuro e la disillusione, ma soprattutto la sfiducia nel fatto che l'uomo possa in qualche modo opporsi ai violenti colpi della fortuna. Quarant'anni dopo, un altro poeta, Ludovico Ariosto, sempre alla corte di Ferrara, darà alle stampe la prima edizione del suo poema epico cavalleresco, l'Orlando Furioso. E non è solo l'Orlando della tradizione, l'Orlando conte paladino di Carlo Magno, quello delle chansons de gesto, no, è proprio il conte Orlando di Boiardo. È quel conte di cui Boiardo non ha fatto in tempo a narrare la fine delle avventure perché l'ha lasciato finché tornava da lontano Catai dopo avere finalmente conquistato la bella Angelica. Ariosto cuce il suo poema su quello di Boiardo, eppure dichiara che dirà cosa non detta mai né in prosa né in rima. Le donne, i cavalieri, l'arme, l'amore, le cortesie, le audaci imprese, gli ocanto che furono al tempo che passaro i mori d'Africa al mare, e in Francia no quertanto, seguendo l'ire i giovenil furori da Gramante e l'orre, che si diavanto di vendicare la morte di Troiano sopra recarlo imperator romano. Dirò ad Orlando in un medesimo tratto cosa non detta in prosa mai né in rima, che per amor venne in furore e matto d'uomo che si saggio era stimato prima. Se da colei che tal quasi m'ha fatto, che il poco ingegno ad ora dormi l'ima, me ne sarà però tanto concesso che mi basti a finir quanto ho promesso. Piacciavi generosa Erculea Prole, ornamento splendor del secol nostro, Ippolito, a gradir questo che vuole e darvi sol può l'umil servo vostro. Quel che io vi debbo posso di parole pagare in parte, ed opera di inchiostro. Né che poco io vi dia da imputar sono, che quanto io posso dar, tutto vi dono. Voi sentirete, fra i più degni eroi, che nominar con laude ma parecchio, ricordar quel rugger, che fu di voi e dei vostri avi illustri il ceppo vecchio. L'alto valore e chiari gesti suoi vi farò udire, se voi mi date orecchio, e i vostri alti pensier cedino un poco, sì che tra loro i miei versi abbiano loco. Ed ecco la novità della materia, la follia d'Orlando. Le gesta eroiche e le grandi imprese di guerra sono state narrate nella tradizione dei cantari. Boiardo invece ha provveduto a narrare le vicende amorose di Orlando. Ludovico Ariosto promette di raccontare una cosa mai detta prima, e cioè di come il paladino, da innamorato, si trasformò a furioso. Folle, folle per amore. Ma la follia di Orlando non è soltanto la follia di Orlando, e cioè non è l'esito di un sentimento amoroso non corrisposto che conduce il paladino a perdere completamente il controllo di sé. La follia di Orlando appartiene a tutti quegli uomini che ritengono di poter trovare in questo mondo, nella loro vita, soddisfazione e riconoscimento per ciò che fanno. Che cosa è cambiato dunque nei 40 anni che separano la pubblicazione dell'Orlando innamorato da quella dell'Orlando furioso? Beh, innanzitutto è cambiato completamente il panorama storico-politico, l'abbiamo già detto prima, ma poi è cambiato radicalmente il rapporto tra l'intellettuale e il potere. Anche Ariosto nasce nei possedimenti dei feudi ferraresi a Reggio Emilia nel 1474 e nasce da un conto al quale il duca Ercole I aveva affidato il presidio della guarnigione di Reggio Emilia. Suo padre è stipendiato dal duca Ercole I e Ariosto ha la possibilità di frequentare la corte ferrarese e di condurre una vita agiata. La situazione di Ariosto muta radicalmente nel 1500, quando suo padre muore e Ariosto deve provvedere a tutta la sua numerosissima peraltro famiglia. Ariosto è stipendiato dal duca Ercole I fin dal 1497 e sono numerosissimi gli incarichi che il duca gli affida, nessuno di questi però è di natura letteraria. Nel 1503 Ariosto passa al servizio del cardinale Ippolito d'Este e la schiera dei cortigiani che ruota intorno al cardinale è numerosissima e il cardinale tratta tutti quanti alla stregua di servitori, condizione della quale Ariosto si lamenterà esplicitamente nella prima delle sue satire. Già nel 1507 il poeta confida a Isabella d'Este di essere impegnato nella stesura di un poema, ma sarà difficilissimo per Ariosto trovare il tempo necessario da dedicare al suo poema e alla letteratura. Nel 1516, quando esce la prima edizione del poema, effettivamente Ariosto è quello che noi oggi definiremo un precario. Non ha un posto definito, non ha uno stipendio sicuro, non sa che cosa gli riservi il futuro, sa che è in continuo spostamento da una corte all'altra, da un'ambasceria all'altra e nello stesso tempo non ha una situazione sentimentale chiara, è innamorato di una donna, l'ha sposata segretamente e non può nemmeno rivelare la sua relazione perché rischia di perdere quei pochissimi benefici che il cardinale gli ha concesso e che gli consentono di vivere. Nel 1517 la situazione precipita, muta ancora una volta radicalmente perché il cardinale Ippolito deve raggiungere la sua diocesi in Ungheria e Ariosto si rifiuta di seguirlo. Passa quindi al servizio del fratello Alfonso I d'Este, ma la sua situazione non migliora moltissimo perché il duca continua ad affidargli incarichi che gli richiedono di spostarsi continuamente, sono ambascerie tra l'altro anche presso Roma, presso sia il papa Giulio II che il suo successore Leone X e sono incarichi molto difficili, Roma è ostile a Ferrara, Ariosto una volta deve addirittura andarsene minacciato di morte dal papa stesso. Dal 1522 al 1525 la duca lo fa governatore della Garfagnana, un posto orribile per Ariosto dove lui deve dedicarsi soltanto alla gestione politica del territorio e affrontare continue ribellioni da parte della popolazione e il problema del brigantaggio. Il rapporto quindi che Ariosto instaura con i signori di Ferrara non è il rapporto sereno che Boiardo aveva con il duca Ercole I. È un rapporto tormentato, è un rapporto frustrante. Ariosto non riesce mai ad ottenere quel minimo di certezza, quel po' di sicurezza economica che gli consenta di condurre una vita tranquilla. Ippolito è il destinatario dell'Orlando Furioso eppure non l'ha mai richiesto, anzi non ha mai richiesto nessuno dei servigi poetici da parte di Ludovico Ariosto. Egli l'ha detto, scrive il poeta nella prima satira, io dirlo a questo e a quello voglio anco e i versi miei posso a mia posta mandare al culiseo per lo suggello. Quindi che cosa contiene il proemio del Furioso? Contiene innanzitutto la materia, l'argomento del poema che che vibra nei primi versi e versi che sono concitati nel ritmo e sono concitati anche nella figura retorica dell'elenco, nel chiasmo che sembra quasi rimescolare gli elementi in gioco, le donne, i cavalieri, l'arma, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto. Quindi tantissime cose. È un poema affollatissimo di vicende, di personaggi, di trame, di filoni narrativi e contiene la sua concezione dell'uomo contemporaneo, un uomo folle se pensa di ricavare qualche soddisfazione dalla sua vita, un uomo che è destinato a seguire continuamente illusioni e non appena ritiene di averle afferrate queste svaniscono, gli sfuggono di mano e lui si trova di nuovo in una ricerca. Ricerca peraltro che non è dettata da un suo progetto specifico ma che è in preda al caso, alla fortuna. I personaggi dell'Orlando Furioso non hanno la capacità, non hanno la possibilità di scegliere nulla, nemmeno la strada che vogliono percorrere, nemmeno quando sanno perfettamente che cosa stanno inseguendo. Angelica per esempio, anche in quel caso lì non sono loro a scegliere la strada, è il cavallo. Poi il proemio di Ariosto contiene anche l'encomio, la dedica al suo signore ed è una dedica ironica, amara, quasi sarcastica. La grandezza e la magnificenza del cardinale Ippolito sono poste poi in antitesi con la piccolezza e con l'umiltà del poeta. È un'antitesi che si rivela anche nella scelta lessicale, per cui intorno alla figura di Ippolito suonano parole come generosa, ornamento, splendore. Mentre invece appartengono al poeta espressioni come uvile servo, oppure posso solo pagare in parte e poi che io vi dia poco. Tuttavia alla fine Ariosto in qualche modo riaggiusta la prospettiva. Sì è vero, io posso dare molto poco, cioè io posso dare ciò che voi considerate molto poco e ciò che voi considerate un pagamento, un debito da parte mia. Ma per quanto mi riguarda, dal mio punto di vista, quello che io vi do è tutto. Tutto me stesso, tutta la mia opera, tutto il mio lavoro.